Papa Francesco ha ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Anastasiades. Nel corso dei colloqui sono stati passati in rassegna alcuni argomenti di comune interesse, quali il ruolo positivo della religione nella società e la tutela del diritto alla libertà religiosa. Non si è mancato di rilevare con compiacimento la ripresa dei colloqui finalizzati a elaborare una soluzione condivisa per il superamento dell'attuale situazione dell'isola. Si è espressa preoccupazione per i conflitti e l'instabilità politica che interessano la regione del vicino e Medio Oriente, comportando gravi sofferenze alle popolazioni civili e l'auspicio che le comunità cristiane nei vari paesi possano continuare a dare il loro contributo alla costruzione di un futuro di benessere materiale e spirituale.